Ragazzi, ieri sera, Quarta Repubblica, sul caso Salis, Sallusti fa un'analisi perfetta. Devo dire questo, è torno al fatto che ogni paese non solo ha una sua giurisdizione, una sua più o meno liberalità, ma anche una sua storia che lo rende diverso dagli altri paesi. Noi abbiamo tuttora in atto, credo, degli ordini di cattura internazionali per delle persone che noi metteremo all'ergastolo, che se ci dessero sarebbero all'ergastolo. Mi riferisco ai brigatisti o ai terroristi russi degli anni 70-80 che sono esuli in Francia. La Francia dice io non ve li do, perché secondo me voi siete uno stato illiberale, la pena che proponete per questi signori è sproporzionata e quindi questi signori se ne possono stare tranquillamente in libertà a Parigi. Io non ho mai sentito uno del PD dire vergogna, Francia, non ci ridai i terroristi rossi che hanno ammazzato in maniera conclamata dei nostri cittadini. Siete uno stato illiberale, fascista. Perché, e lo chiedo all'onorevole, perché non date del fascista alla Francia che si tiene dei terroristi in libertà che noi metteremo all'ergastolo? Punto di domanda. Onorevole Gripaudo.